Ora che Donald Trump è certo di avere i numeri per la candidatura repubblicana alle presidenziali statunitensi, ha deciso di accettare la sfida lanciata agli da Bernie Sanders. L'outsider democratico, che ha meno probabilità di staccare il biglietto per le presidenziali di novembre, vuole mostrarsi uno sfidante credibile e ha chiesto a Trump di accettare un dibattito pubblico. Lui ha detto sì, a patto che i proventi televisivi vadano in beneficenza. Lo abbiamo sfidato a un dibattito e sembra che sia pronto a discutere. La cosa mi entusiasma. Su Hillary Clinton torna ad alleggiare la polemica sulle mail ufficiali inviate a partire da un server privato quando era segretaria di Stato. La cosa potrebbe danneggiarla nella campagna vera e propria, ma non sembra sbarrare la strada all'investitura.